Come ogni anno, in questo periodo è arrivato il momento di partire. Partire per una meta studiata, desiderata, attesa. Preparare tutte le cose che ci servono, giocando alla consueta gara di chi indovina per primo cosa abbiamo dimenticato a casa. Andare a fare le tante attese vacanze, momento in cui tutto è permesso, ogni desiderio si avvera, il tempo è prezioso e abbondante, così tanto che sembra di non riuscire a fare nulla. Preparativi meticolosi vuotano parzialmente la casa, che si lascia insieme alle sue piante in una sorta di solitudine esistenziale, sperando che mentre siamo via se la cavino anche da sole. Gli strati di bagagli si accumulano nel reto della macchina, finché non è tutto pronto e in un attimo sembra di essere arrivati, di essere sempre stati qui, di non essere mai ripartiti. I silenzi e l'aria così fresca ci abbracciano e noi, non c'è niente da fare, ci sentiamo nuovamente a casa.